Barista del TikTok, vi lanciamo una sfida? Vi lanciate una sfida? E ditemi pure! Sei tu che fai i cappuccini? Certo che sono io che faccio i cappuccini personalizzati, perché? Hai qualche dubbio? Sei bravissimo! Grande, grazie mille, sei veramente gentile! E quindi, che cappuccino ti fare? Dici, sei interista? Sì! No, grande! Allora te lo faccio subito, guarda! Ecco a te lo stemma della nostra Inter! Come si dice? Grande, batti cinque! Grande! Dal Barista di? Di TikTok! Averi, hai visto che gli fa lui i cappuccini? Ciao, capari per il TikTok! Vi lanciano una macchina! Piano, piano! Una alla volta! Devi disegnare i personaggi del gioco stambolgare! Scheletro di Namitron! Devi disegnare Scheletro Oro! Tu? Tranquillo, con calma, non ti preoccupare! Piano piano, dimmi, dimmi! Drago, drago! Va bene, drago, drago, drago! Ok, tu? Io e noi pupazzetti, Hulk! Noi pupazzetti, va bene, Hulk! Grosso, verde e aggressivo! Va bene! E tu? Il drago! Ora tu il drago, qual è quello suo? Ok, accetto le vostre sfide, dal barista di TikTok! Iniziamo con Scheletro Oro! Che bello è uguale! Poi facciamo Drago! Adesso andiamo con Dinamitron! Giusto, sì? Dinamitron! Bello! Adesso andiamo con Hulk! E poi facciamo l'altro drago! E poi facciamo l'altro drago! E niente ragazzi, credo di aver vinto la sfida Dal barista di... Divideare! Ciao barista di TikTok! Ciao! Voglio lanciarti una sfida Ma, a differenza delle altre volte Questa volta sarò io a fare il tuo cappuccino Mi piace questa sfida Vediamo cosa sai fare Vieni con me Allora vai Fabio, uno, questo è il caffè E questo qua è il latte Ti hai fatti il cappuccino Ma veramente? Ma stai squizzando? Questa è la boccettina Ma devo fare il mio o il suo? Il tuo, il tuo Io il mio devo fare Vai, vediamo E lo dai, dammi un'idea Tu, vai lui Libero Mi devi dare un'idea Come fare pressione È l'esfilante Questo è fatto, lo prendo io Dai, ce l'ho l'idea Vai Viva il barista di TikTok Con tanto di fiocchettino e pure cuoricino Per la prima volta invece che tal barista di TikTok Al barista di TikTok Grandi Fissa di TikTok Ecomi Vado la fissa Mi lanci una sfida Dimmi pure Il cappuccino Il mio pingui Mi compro l'anno Wow, fai il compleanno E come ti chiami? Luana E quanti anni fai? Tenta tre C'è poco che fa tenta e quattro Grande Tanti auguri Batti cinque Grande E allora Luana Ti faccio un cappuccino personalizzato Tutto per te Guarda Tanti auguri Luana Grande Come si dice sempre? Dal barista di? Di TikTok Barista di TikTok Vogliamo lanciarti due sfide difficilissime Meno male Pensavo mi volessi menare Dimmi tutto Una la cattedrale di Noto E la cattedrale di Noto Sul mio cappuccino E per te? Batman Vabbè Batman è un po' più facile per la cattedrale Ok Accetto le vostre sfide Iniziamo con La cattedrale di Noto Andiamo Ok Guarda E adesso Andiamo con Bacca Vai Il dolore Ora ve lo vedi il cappuccino Da Noto Al barista di TikTok C'è un ragazzino seduto in saletta Che vuole lanciarmi una sfida Venite con me Vediamo di cosa si tratta Ciao barista di TikTok Ti propongo una sfida Rienci a farmi il cappuccino Con il logo della Nike E il mio nome Simone Il logo della Nike Con il tuo nome Ok Easy Baffetto della Nike Ok Simone Il cappuccino è pronto Simone Con il segno della Nike Grande E come si dice sempre Dal barista di TikTok E come si dice sempre E come si dice sempre